Era un ragazzino, anche io ero un po' più giovane di oggi, a Don Balunet abbiamo conosciuto Massoni, dunque il primo incontro l'abbiamo avuto per portarlo alla fratella e i cugini e Massoni venne giù per fare delle cose alla fratella e i cugini, abbiamo fatto delle cose anche molto belle, poi il famoso bolo quadro e tanti altri articoli ha fatto perché ha lavorato molto tempo con noi Massoni. Luigi è cresciuto con noi, con tutta la sua equipe che spesso veniva giù, si lavorava fino a tarda sera e anche il mese d'agosto perché ricordo che il carello Massoni lo facemmo proprio nel mese di agosto.